ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di ac milan inside quest'oggi video diverso dal solito non vi porterò news non vi porterò la carriera che sta andando molto bene al giorno uscirà anche il secondo episodio ma andrò a fare un piccolo video sfogo su quanto accaduto ieri nel match tra milan spezia prima di iniziare però come al solito vi chiedo gentilmente di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su youtube in più in descrizione troverete anche i link per i nostri profili social ufficiali e per il nostro sito web www.ac milaninsight.com il giorno dopo è ancora più difficile il giorno dopo continua a non renderti conto effettivamente di quanto hai vissuto di quanto hai subito perché ieri il milan in primis e noi tifosi milanisti abbiamo subito tanto ci tengo a fare una premessa ci tengo a non arrivare a dover insultare l'arbitro marco serra perché l'arbitro della sezione torino sarà già protagonista di insulti da parte di tifosi di fede rossoniera nel corso di questi giorni e penso anche fino alla fine della stagione perché una situazione del genere rimarrà per sempre impressa nelle nostre menti però quello che voglio arrivare a farvi capire è che un tifoso del milan di 20 anni per la prima volta ieri sera si è trovato impotente di fronte a un sentimento di rifiuto nei confronti della serie a e del campionato italiano e delle partite di calcio occhio quello che vi sto per dire non è inteso come non ho alcuna intenzione di continuare a vedere la serie a perché io domenica sarò davanti alla televisione a tifare per questi colori e per sostenere i ragazzi in un big match come quello contro la juve ma parliamoci chiaro ieri sera ogni tifoso milanista si è trovato nella stessa situazione per la prima volta come ho detto in 20 anni mi sono sentito impotente anche perché non avevo come e non avevo cosa commentare per quanto avevo visto penso che l'errore di marco serra sia un errore che nasce a priori un errore che caratterizza il campionato italiano da oramai decenni partendo dall'erroraccio di quel milan juve quando non venne dato il gol a montare arrivando a ieri sera occhio ovviamente tutte quante le squadre di serie nel corso di questa stagione hanno subito torti arbitrali ovviamente ciascuna squadra subito anche dei favori arbitrali ma questo parlando di milan quindi qualsiasi tifoso di squadre di altre squadre si mettesse nei panni di un tifoso milanista che ieri si è lasciato visto che si è visto derubare i tre punti praticamente conquistati tre punti in saccoccia sì perché alla fine se ci facciamo caso se non avesse fischiato quel fallo e si avesse lasciato proseguire il gioco come d'altronde si dovrebbe fare sempre il milan adesso si trovava a più uno dall'inter ea più 5 ancora dal napoli in ottica futura se noi dovessimo perdere contro il vento se contro inter addirittura ci troveremo a meno 4 dal napoli e a meno 10 dall'inter dove due settimane prima potevamo avere tutt'altra classifica la situazione è questa la situazione che mi trovo mi trovo a dover per forza arrivare a criticare quello che il sistema arbitri del calcio italiano perché non è la prima volta che succede una situazione del genere quello che mi domando io è perché fischiare perché non lasciare proseguire l'azione quando alla fine la regola 5 del regolamento del calcio giocato afferma che il vantaggio lasciando che è a discrezione dell'arbitro però si dà sempre nel momento in cui la squadra che può aver subito fallo si ritrova comunque in possesso della palla in una situazione favorevole di gioco perché in una partita dove l'arbitro marco serra l'ha imposta all'inglese oramai come vogliamo definirla dove lasciava correre scontri su scontri nel momento in cui doveva lasciare proseguire l'azione non ha fatto ovviamente dispiace umanamente per la persona sappiamo benissimo secondo indiscrezioni che post partita si è lasciato andare ad un pianto addirittura arrivato ad essere consolato da Zlatan Ibrahimovic e compagni e questa è una cosa che rende valore al Milan ma il Milan non può continuare a stare zitto dopo una situazione del genere io credo che l'errore sia stato un errore di superficialità e un errore di frettolosità perché dico questo? Perché superficialità è un arbitro che in una partita di ieri ha arbitrato in un modo o nell'altro sempre in maniera superficiale cercando sempre di compensare errori con altri un esempio che mi rimane impresso è una situazione che si è verificata in mezzo al campo con Bakayoko Bastoni e Ibrahimovic Bastoni fa fallo su Bakayoko non viene fischiato fallo su Bakayoko prosegue l'azione Ibra fa fallo su Bastoni e non viene fischiato fallo su Bastoni e Serra lascia proseguire l'azione io non ho mai creduto a situazioni del genere non ho mai pensato che gli arbitri soprattutto a questi livelli potessero far prevalere la loro inconscienza addirittura al punto da dover compensare errori fatti in determinate situazioni l'arbitro ieri è stato da uno in pagella perché ad esempio manca un rosso su Giasi lo stesso Giasi che poi ha segnato il gol del 2-1 dello Spezia aveva addirittura fischiato fallo contro Leao in occasione del rigore quindi sono tante le cose che possiamo permetterci di recriminare per quanto riguarda la giornata di ieri in più penso anche con insistenza se così vorremmo dire che gli arbitri ormai sono un paio di anni che vogliono essere loro i protagonisti delle partite non vogliono permettere ai giocatori di esserli in che senso mi rimane impressa nella mente la situazione che l'anno scorso si è venuta a creare tra Ibra e Mariska quando l'arbitro di Napoli cacciò Ibraimovic per delle presunte frasi che parla fino a lo stesso giocatore svedese disse tutt'altro però in realtà sarebbero tanti gli argomenti di cui vorrei parlarvi però so che uscirebbe un video troppo lungo e potrebbe essere pesante quindi vorrei il tutto racchiuderlo in tre situazioni che ieri mi hanno fatto uscire pazzo mi hanno fatto proprio uscire con la testa, col seno, è terribile che ieri addirittura sono andato a dormire talmente arrabbiato che stamattina mi sono sviato ancora peggio 3. in primo luogo lo stesso arbitro che si è reso conto dopo l'errore di aver commesso una sciocchezza aberrante al punto di arrivare a chiedere scusa ai tifosi e ai giocatori in campo 2. l'associazione italiana arbitri che arriva a scusarsi con la società Milan scuse che per carità di Dio per quanto possano essere accolte perché loro in primo si sono resi conto della sciocchezza commessa da un loro assistito non possiamo farci nulla perché in questo momento non mi sono non mi tornano indietro i tre punti in questo momento io sto ancora cioè non ho aggiunto punti alla classifica sono due punti dal Napoli sono a due punti dall'Inter in questo momento a me non serve nulla non servono nulla le loro scuse e in terzo luogo alla fine il precedente perché sì in passato è successa una situazione molto simile addirittura nel 2009 senza il VAR dove protagonista fu proprio Tiago Motta cosa successe all'epoca in un Genua in un Genua Siena non voglio dire una sciocchezza quindi mi asterro a dire la squadra avversaria della compagine Ligure Tiago Motta segnò un goal su situazioni di vantaggio la stessa situazione però viene poi rivista o meglio e viene presa la decisione riguardante al fatto che poi in un modo o nell'altro il goal venne convalidato dico io se esistono dei precedenti perché non rispettare questi precedenti se in passato addirittura dove la tecnologia non aiutava gli arbitri come li aiutano adesso perché non mettere in mezzo il VAR e intromettersi e far sì che la partita non possa finire in questa maniera io credo che in otto minuti di video voi possiate aver capito quelli che sono i miei sentimenti in questo momento sono completamente distrutto sembrerà eccessivo da parte mia ma è la verità cioè in questo momento da tifoso milanista posso solo che essere arrabbiato e schifato da quanto è successo ieri e mi auguro vivamente che la società possa farsi valere per far rispettare un Milan che quest'anno è stato protagonista in negativo di tantissime situazioni a suo sfavore partendo dal rigore inventato contro il Verona arrivando agli screzzi europei contro Atletico e Porto mi auguro che questo video possa aver dato voce a tantissimi tifosi milanisti che ieri alla fine si sono trovati in una situazione scomoda ecco per il momento è tutto augurandoci che domenica possa andare meglio e non possano riproporsi situazioni del genere sempre forza Milan nonostante tutto e ci vediamo alla prossima